Un'ottima affluenza alle urne, è ancora meglio la percentuale con cui lei è stato eletto. Parliamo con il nuovo sindaco di Civitella in Valdichiana. Sì, è stata una gran prova di democrazia. Tanti cittadini sono andati a votare, il 62%. Ringrazio tutti i cittadini che hanno votato e che hanno fatto questo atto importante, di andare a eleggere quello che è il sindaco. Qual è l'emozione però personale di oggi? C'è un'emozione personale, sento tanto il peso della responsabilità. La responsabilità perché abbiamo un programma ambizioso, un programma che vogliamo portare, eseguire e nei prossimi anni. Quindi oggi festeggiamo e da domani mattina ci mettiamo al lavoro. Insomma la percentuale con cui è stato eletto è veramente importante. Sì, un 65%, siamo contenti. Questo dimostra che i cittadini hanno apprezzato quello che è il nostro programma, la nostra visione di futuro di Civitella e hanno apprezzato anche quella che è stata la buona amministrazione in tutti questi anni. Ecco, nella scelta appunto dei componenti della sua lista, anche tante professioni, insomma era davvero molto eterogenea. Sì, una lista che appunto comprendeva, io definivo sempre una sintesi equilibrata tra quella che era esigenza di rinnovamento, ricambio generazionale e esperienza politica amministrativa al suo interno. Quindi tanta professionalità, tante persone che hanno voglia di impegnarsi per il territorio. Il sediamento ufficiale quando sarà? Il sediamento ufficiale, ancora ora dobbiamo fare, al seggio numero uno faremo e la proclamazione fra una mezz'oretta e poi fra una ventina di giorni faremo il primo consiglio comunale utile. A chi dedica la vittoria? Senza dubbio alla famiglia che mi ha sopportato in questi mesi di campagna elettorale.